Gli oceani sono forse la parte più importante dell'ecosistema terrestre, sono biologicamente diversi, forniscono enormi quantità di cibo e generano la maggior parte dell'ossigeno del pianeta attraverso il plankton. Ma sappiamo ancora molto poco degli oceani con solo il 5% del fondale oceanico che è stato mappato in dettaglio. Perché la maggior parte del nostro pianeta rimane così misteriosa? Oggi rispondiamo alla straordinaria domanda qual è il vero motivo per cui non esploriamo gli oceani. Hai bisogno di risposte alle grandi domande? Sei costantemente curioso? Allora perché non iscriversi a infinito per altre clip come questa? E ricordati di cliccare anche nella campanellina per rimanere sempre aggiornato. Il 71% della superficie terrestre è costituita da acqua e quell'acqua svolge un ruolo cruciale nelle attività umane come i viaggi, la pesca e il trasporto di merci. In effetti alcune statistiche stimano che il volume di merci trasportate via mare raggiunga ben l'80%. Ben oltre un milione di persone si guadagna da vivere navigando su navi mercantili, 38 milioni di persone sono pescatori e storicamente i paesi con le marine più grandi sono stati più potenti. L'importanza del mare semplicemente non può essere sopravvalutata ma nonostante la necessità di comprendere al meglio rimane notoriamente inesplorato soprattutto rispetto allo spazio esterno dove non si trova alcun cibo. Ci sono molte altre ragioni per cui le profondità marine non sono state esplorate in dettaglio, dalla mancanza di incentivi finanziari alla pura difficoltà di costruire macchine in grado di restare a quelle profondità. Ma è stato dimostrato più e più volte che possiamo fare queste cose. Per esempio, gli esseri umani hanno utilizzato oggetti sommergibili per andare più in profondità sott'acqua per centinaia di anni, mentre i sottomarini moderni hanno avuto origine a metà del XIX secolo. Inizialmente utilizzati per l'esplorazione, i primi sottomarini iniziarono ad essere utilizzati in guerra negli anni 60 dell'Ottocento. Furono anche notoriamente impiegati sia dall'Unione che dalla Confederazione durante la guerra civile americana e negli anni 60 l'influente esploratore e ambientalista francese Jacques S. Cousteau, scusate il mio francese, completò il suo progetto di habitat sottomarino con Chef 2, dimostrando che gli esseri umani possono vivere sott'acqua. Abbiamo questa tecnologia da anni, ma c'è ancora qualcosa che si frappone tra noi e la conquista delle profondità. Forse il problema più grande che dobbiamo affrontare quando si tratta degli oceani, tuttavia, è l'idea dell'oceano stesso. La talassofobia è una paura relativamente di nicchia che, sebbene probabilmente comune in una certa misura in quasi tutti, non se ne parla molto. È una paura delle acque profonde, compresi i corpi idrici più profondi di tutti, i mari, ma anche grandi laghi e persino piscine abbastanza profonde. Per essere classificato come una fobia, qualcosa deve essere irrazionale e influenzare la vita quotidiana di qualcuno, ma le fobie possono iniziare come paure del tutto comprensibili. È ampiamente accettato che le fobie di serpenti e ragni, che sono le fobie più comuni di tutte, derivino da una risposta evolutiva, poiché in molte parti del mondo serpenti e ragni sono davvero pericolosi. È la stessa storia con l'acqua profonda, poiché l'acqua profonda è potenzialmente mortale, molto più mortale dei ragni, che si stima uccidano tra le 6 e le 11 persone all'anno, in contrasto, centinaia di migliaia di persone muoiono ogni anno per annegamento. Le lezioni di nuoto sono standard nelle scuole di tutto il mondo, mentre i bagnini sono appositamente addestrati per soccorrere le persone in pericolo in acqua. E meno sappiamo dell'oceano, peggiore potrebbe essere la nostra talassofobia. Alcuni pensano che l'oscurità e la scala del mare rappresentino l'ultimo mistero e possano riflettere le profondità del subconscio umano. È vero che la dimensione del mondo sottomarino che non possiamo vedere è quantomeno inquietante, questa paura del mare si riflette nella tonalità della cultura umana. Forse la storia più famosa del potere distruttivo del mare è il mito di Atlantide, una città avanzata sprofondata nell'oceano dopo aver fatto arrabbiare l'idei greci. Non solo Atlantide è un'allegoria del motivo per cui non dovresti abbandonare l'idei, tradisce anche un riconoscimento molto reale dei pericoli che il mare pone. È importante ricordare che non solo l'antica Grecia era una potenza militare marittima, ma le sue isole sono un arcipelago vulcanico che può causare disordini nella terra e nel mare. Poseidone era dopotutto il dio del mare e dei terremoti. Anche ai giorni nostri le persone sono affascinate dall'idea che Atlantide sia ancora là fuori, in fondo al mare, in attesa di essere scoperta. L'altro mito nautico più importante e significativamente più recente di Atlantide, il triangolo delle Bermuda, questo angolo dell'oceano atlantico, è famoso per le navi e gli aerei che sono scomparsi lì nel secolo scorso o giù di lì. La verità è che statisticamente una nave non ha più probabilità di affondare nel triangolo delle Bermuda che altrove. L'alto numero di scomparse può essere attribuito semplicemente al fatto che è una parte del mare trafficata soggetta a tempeste tropicali, ma il triangolo delle Bermuda rimane comunque una parte importante della cultura pop. Non è il fatto che le navi stiano affondando ad essere così intrigante e che scompaiono, con pochissimi erilitti mai individuati. Questo si adatta perfettamente alla paura dell'ignoto che rappresenta anche l'acqua profonda. Le persone svaniscono nel mare e non tornano più. Al di fuori dei miti e delle leggende popolari ci sono eventi storici che cementano anche questa paura del mare. Il più famoso disastro marittimo della storia è senza dubbio l'affondamento del Titanic del 1912, che causò la morte di circa 1500 persone e traumatizzò profondamente i sopravvissuti. L'immagine del Titanic, la nave più grande mai costruita all'epoca, sprofondare sott'acqua nella sua interezza è qualcosa che tutti conoscono. E il mare è così grande che, pur sapendo dove affondò il Titanic, fu solo negli anni Ottanta che fu localizzato il relitto. In un certo senso ha senso che le persone vogliano credere che il triangolo delle Bermuda sia opera di alieni o che Atlantide sia stata affondata dagli dèi perché è più difficile accettare che il mare abbia tutto questo potere e lo eserciti a caso. Le navi sono scomparse da quando abbiamo iniziato a costruirle. Infatti, uno dei summenzionati sottomarini della guerra civile è misteriosamente scomparso nella Carolina del Sud nel 1864. Almeno, gli alieni che catturano il volo 19 o l'USS Cyclops hanno un motivo, che potrebbe essere il motivo per cui la gente vuole credere alla storia. Ci sono, ovviamente, altre ragioni che impediscono alle persone di avventurarsi nelle profondità, soprattutto considerando che ci sono molti che non hanno paura delle acque profonde, quei milioni di pescatori e marinai, per esempio. Uno dei maggiori ostacoli è il costo dell'esplorazione in acque profonde, anche se tecnicamente possediamo tutte le conoscenze di cui abbiamo bisogno per esplorare e mappare l'oceano in dettaglio. La ricerca nautica non riceve abbastanza fondi. Certo, ci sono organizzazioni governative come la National Oceanic and Atmospheric Administration, così come le università interessate a questo tipo di ricerca, ma non hanno neanche lontanamente i soldi di cui avrebbero bisogno per dedicare la stessa attenzione alla ricerca sull'oceano come abbiamo messo sulla ricerca dello spazio. Questo, nonostante il fatto che i mondi alieni più promettenti del sistema solare, Europa e Encelado, siano corpi ghiacciati con enormi oceani. La tecnologia che abbiamo sviluppato per comprendere i nostri oceani funzionerà su questi pianeti. Il lato positivo è che questo significa che un giorno, con lo sviluppo dell'esplorazione spaziale, lo spazio e la ricerca nautica si uniranno con un obiettivo comune, esplorare le profondità di Europa. Quindi non è del tutto un caso di esplorazione spaziale contro l'esplorazione del mare. I due campi naturalmente si beneficiano a vicenda, ma anche se possiamo avere la tecnologia per esplorare, ciò non lo rende più facile. Gli oceani hanno una pressione schiacciante mentre scendi e al loro punto più freddo sono quasi gelidi. Sono anche neri come la pece nelle profondità di cui conosciamo meno, il che rende il mare profondo un luogo sgradevole, anche se non sei spaventato. E mentre abbiamo tecnologie come sottomarini e robot subacquei che vengono regolarmente utilizzati nella ricerca, queste cose sono ancora molto costose di per sé. Inoltre non ci sono risorse nell'oceano da sfruttare potenzialmente senza conseguenze, a differenza dello spazio e dei suoi esteroidi ricchi di metalli. La cosa più importante è il petrolio e la trivelazione per il petrolio è qualcosa che non dovrebbe più accadere a prescindere. Ma come disse Kennedy quando stava preparando l'America per andare sulla luna, scegliamo di andare sulla luna non perché sia facile, ma perché è difficile. E lo stesso vale per l'esplorazione oceanica. Un giorno dovremo esplorare gli oceani, se non altro, per approfondire la nostra ricerca nello spazio. Ma saremo in grado di superare la nostra paura evolutiva del profondo? E questo è il vero motivo per cui non esploriamo gli oceani. Ma voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Infine, se il video ti è piaciuto metti mi piace e non dimenticarti di iscriverti al canale, oltre che attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato quando pubblicheremo un nuovo video.